Oggi avremo l'onore e l'onere di avere con noi un ospite che ci parlerà di tutto questo, della capacità di saper andare oltre e di trovare quel positivo in alcune terre, in alcune situazioni dove la parola positivo sembra davvero una cosa utopica. Con noi, insieme a noi, abbiamo il piacere di avere Sephora Mossa. Ciao ragazzi, un bel sorriso ad accoglierci. Lo dico soprattutto per chi ci sta anche guardando sulla pagina di Positiv, ma sicuramente questo sorriso arriverà dalla voce di Sephora anche per chi ci sta ascoltando soltanto in ascolto, senza video. Sephora, come stai? Grazie di aver accettato il nostro invito. Prego, grazie a voi. Grazie. Conosco Marcello da un po', quindi per me è un piacere chiacchierare con lui e con un pubblico. Come ti trovi in questo momento? Da dove ci stai parlando? Parlo da Pedara, che è uno dei paesini più alti dell'Etna. In questo momento abbiamo un po' di turbulenze etniche, un po' di piccoli terremoti, eruzioni, parossismi. Ma insomma stiamo bene, siamo contenti. E finalmente è uscita la primavera e cominciamo a germogliare i primi mandorli, i primi ciliegi. Quindi sono serena, sto bene. Che bello. Sephora, allora diciamo, iniziamo con un momento anche abbastanza così simpatico. Praticamente voi dovete sapere questa cosa, che io seguo Sephora da anni sui social, Instagram, YouTube, perché lei comunque ci dirà poi cosa fa. Però vi do questo piccolo, diciamo, così aneddoto. Aneddoto, praticamente io ho avuto l'occasione di incontrarla inaspettatamente. Ne approfitto anche per salutare i nostri amici di Nuovi Orizzonti, che erano qui la settimana scorsa. L'ho trovata lì a Cittadella, a un certo punto. Voi praticamente immaginate, cioè Benny che mi conosce, anche insomma per qualcuno che mi conosce, che ci sta seguendo. Praticamente io ero tipo in uno stato quasi, non lo so, tipo io sto, vedo il fan. Cioè io sono il fan, vedo, capito, il mio idolo, c'è capito, Icon, Top, Sephora Motta, i video, le cose. L'hai spaventata e lei ha denunciato. Esatto, quasi quasi. Infatti si vede, c'è una foto dove lei sta tipo, è questo matto chi è? Però dopo è stato bello, perché insomma, capito che, insomma, bene o male, alla fine siamo folli un po' tutte e due, quindi abbiamo iniziato un po' a parlare. E' una brava persona. Sì, questo lo deve dire lei, è una brava persona, comunque è stato un momento veramente bello di famiglia, anche proprio di semplicità, perché ci siamo trovati a pranzare assieme. E quindi oggi vorrei regalare questo pranzo, visto che diciamo, vabbè, ora è l'ora del caffeuccio, però più che altro questo caffè condiviso insieme con Sephora. Sephora, alla domanda chi è Sephora Motta, tu che cosa rispondi? Una domandina semplice, eh? Non ne ho la più palli di idea, sto cercando di capirlo, sono in divenire, sto camminando, sono una persona che semplicemente cammina e prova, forse cerca, tenta di lasciare un segno, insomma, in questo mondo, lasciare un segno sulla vita delle persone, provo a spendere la mia vita per qualcosa che vale più della mia vita. Sì, sono una reporter umanitaria, principalmente come professionista, ho lavorato per diverse ONG in tutto il mondo, nel DAL 2010, tra Asia, Balcani, Africa e quant'altro. Poi, nel 2015 ho fondato una mia organizzazione umanitaria in Tanzania, quindi in Africa, l'Africa del sud-est, nei paesi, diciamo, più remoti, più sperduti, per, con l'intenzione in questo senso di mettere una lente di ingrandimento sulla vita dei reietti, sulla vita dei più poveri, sulle vite sconosciute, sulle vite che non hanno un volto, che non hanno letteralmente un nome. Questo mi sta restituendo un volto a me e mi sta restituendo un nome a me, in qualche modo. Oggi, sì, sono fondatrice di questa piccola organizzazione umanitaria. Abbiamo costruito una scuola nella giungla, nelle zone remote, tribali, dei Masai, Barabai e quant'altro. Abbiamo costruito diversi pozzi nelle zone più deserte, più aride. Quindi, sì, la mia vita, diciamo, si divide in due parti, tra la mia professione come filmmaker, come reporter, organizzo corsi di fotografia olistica, li chiamo così, perché parliamo di fotografia a 360 gradi, letteralmente parliamo di luce, di fede, di spiritualità, di diritti umani, e poi lavoro come, 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 scusa? No, volevo parlare proprio di questo, perché avevo letto di te, di questo corso di fotografia e missione, vorrei... Sì. ...che lo raccontassi, perché... È molto interessante. Molto, molto interessante. Siamo già giunti alla quinta edizione, quindi sono già cinque edizioni che abbiamo, abbiamo in passato, abbiamo organizzato. È un corso, diciamo, credo, rispetto a quello che mi è stato detto dai corsisti, qualcosa che ti mette tanto in discussione, sicuramente ti apre gli occhi, è una formazione non solo tecnica, quindi tu impari a utilizzare la macchina fotografica e manuale, ok, fondamentalmente, quindi impari che cos'è il diaframma, l'otturatore, lo shutter speed, eccetera. Ma parliamo di luce letteralmente, perché voi sapete che fotografia letteralmente significa la scrittura della luce, e quindi capiamo che cos'è la luce, chi è la luce, e in questo senso cosa significa scrivere con essa. Ne parliamo a livello spirituale, quindi citando anche dei passi di Gesù, che ritiene di essere luce, principalmente, prima di ogni altra cosa. Quindi cosa significa scrivere con Cristo, scrivere con la luce in questo senso, per antonomasia, che significa quindi il concetto dei diritti umani, parliamo tanto di diritti umani, perché in realtà la fotografia nasce per denunciare una guerra come proprio diritti umani, quindi il discorso diritti umani e fotografia è strettamente legato, ed è strettamente legato per quanto mi riguarda anche alla fede, se la luce è Dio, allora è la scrittura di Dio. Quindi proviamo a scrivere con Dio su questo mondo, e quindi significa cosa? In poche parole significa scrivere nella vita delle persone, incidere la luce negli ultimi, soprattutto è lasciare un segno con la nostra vita. C'è un background che chi si iscrive al corso deve avere per farlo insieme a te? C'è una preparazione? Perché mi sembra un corso di fotografia che va a fare. È abbastanza intenso, è un corso di fotografia molto intenso, no, non ci sono requisiti se non tanta voglia di mettersi in discussione, perché chi esce dal corso esce proprio con nuovi occhi letteralmente, perché scomponiamo la luce, scopriamo che cos'è la realtà e la verità, che sono due cose diverse, scopriamo, cerchiamo di capire insieme, sia a livello tecnico, sia a livello spirituale, che cosa c'è che non si vede, quindi se tutto quello che non si vede effettivamente non c'è e viceversa, e quindi tanta voglia di mettersi in discussione, tanta voglia di spendersi soprattutto per gli altri utilizzare questo corso come scusa, come strumento per iniziare a aprire gli orizzonti anche verso i paesi del sud del mondo. È un modo anche per sostenere l'organizzazione HPS, la mia organizzazione, quindi parte del ricavato va proprio in beneficenza ai nostri progetti, e no, in realtà la maggior parte delle persone non sanno nemmeno utilizzare in manuale la macchina fotografica e non ce l'hanno nemmeno, quindi è proprio un modo per conoscere la fotografia intesa come linguaggio, letteralmente fotografico, e in maniera un po' più estesa rispetto a semplicemente premiamo lo scatto della macchina fotografica e impariamo semplicemente roba tecnica, ma c'è molto di più. Che tipo di allievi hai avuto? Giovani, adulti? Questa è una bella, è interessante perché non è facile, dico la verità, da questa parte, parlare un linguaggio che abbraccia tutto un range di persone di diverse estrazioni religiose e anche culturali, geografiche e anche anagrafiche, perché i miei anunni partono dai 18, almeno, dai 18 anni ai 63, finora ci sono stati anche uomini, donne di 63 coppie, marito e moglie, quindi sto vedendo che abbraccio veramente, è un corso veramente ampio, comprensibile a tutti, poi sta a me un mattino cercare di parlare un linguaggio comune, ma le persone che escono da questi corsi sono commosse, sono cambiate, sono trasformate, hanno un nuovo punto di vista sicuramente, che spero tanto si possano portare per tutto il resto della loro vita, non solo in questi due mesi di entusiasmo, ma anche posso rimanere. Io ho due al volo, allora una è innanzitutto magari c'è qualcuno che ci sta seguendo e un po' incuriosito dice come posso partecipare a un corso del genere, prima domanda. Vai sul sito www.seforamotta.com, il mio nome e il mio cognome è Sefora con la F, mi raccomando, sefora di Firenze, seforamotta.com, lì trova tutto, i corsi, c'è la pagina corsi eccetera, oppure direttamente scrivere una mail a me, info, chiocciola, seforamotta.com. Ok. E la sesta edizione partirà a settembre, adesso già abbiamo la quinta edizione ormai in corso, siamo già alla seconda lezione, che giovedì partiamo con la seconda lezione, però ripartiamo con la sesta edizione a settembre, c'è un numero chiuso, ovviamente, solo 16 partecipanti possono iscriversi, perché ci tengo particolarmente che sia un gruppo coeso, compatto, che io possa seguire meticolosamente, settimanalmente. Senti Sefora, in un passaggio, mentre parlavi, hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè hai detto che è un corso che è aperto a tutte le età, ma soprattutto anche a tutte le estrazioni religiose. Quindi questo, diciamo, alla fine, diciamo, questo trio che ci vede qui al microfono, viene anche da esperienze personali, religiose, spirituali, umane, diverse, e quindi avere questa bellezza di saper comunicare tra, diciamo, esperienze anche diverse, un messaggio da dare rispetto anche a questa tematica qui, che vuol dire, appunto, dici tu come la pensi rispetto a questa capacità di saper comunicare anche con chi la pensa diversamente da me. Io credo che per quanto noi possiamo sforzarci o dire a noi stessi di far parte di una categoria piuttosto che un'altra, in qualche modo, alla fine, il nostro percorso con Dio è molto personale. Credo che Dio parli alla nostra vita, la nostra fede sia molto su misura d'uomo. Dio ci cucia addosso il modo suo di essere con ognuno di noi, esattamente come un padre con i propri figli. Quando vedi un padre che dice io tratto i miei figli tutti allo stesso modo, non è un buon padre, perché in realtà tutti i figli hanno bisogno di essere trattati diversamente perché hanno carattere diversi. Se siamo proprio, dalle impronte digitali al nostro DNA, completamente diverso. Ecco perché Dio parla a noi con un linguaggio diverso, con un modo di arrivare a noi. Per esempio, il modo in cui il Signore ha parlato alla mia vita non avrebbe alcun senso per qualcun altro, e viceversa, perché io ho bisogno di un certo tipo di linguaggio, Lui conosce la mia sensibilità, il mio modo di essere. Come riceverei alcune cose e come invece non le riceverei? Quindi in questo senso, per quanto noi ci sforziamo a omologare la fede, credo che però un vero padre, un buon padre, riesce a raggiungerci, a parlare un linguaggio diverso ad ognuno di noi. E la stessa cosa cerco di fare anche io. Cerco di parlare di cose che vivo, nient'altro. Semplicemente insegnare o parlare cose che sono realmente accadute nella mia vita, realmente stanno cambiando la mia vita e realmente hanno senso. Non ideologie o cose che penso siano buone o belle. Quelle magari me le tengo per me o ne parliamo a tu per tu con amici, ma non credo che si possano insegnare queste cose. Piuttosto si possono veramente insegnare esperienze reali di vita perché solo chi ha vissuto una cosa ha autorità nel dirla e nell'insegnarla. E quindi in questo senso nei miei corsi o nei miei incontri o qualsiasi cosa che facciamo anche con HPS, provo solo a parlare delle cose che veramente hanno inciso, hanno scritto a proposito di scrittura, proprio sulla mia vita. Tutto il resto potrebbe essere ognabile. Ti stanno scrivendo, ti stanno scrivendo grandissima Sephora, Sephora è unica, hai tante persone che ti vogliono bene, che ci stanno ascoltando e che condividono il tuo discorso. Cioè, vero un buon padre tratta i figli in modo diverso, amandoli tutto allo stesso modo, dice Angela Migaudio. Esatto. Io ti volevo chiedere questa cosa, da storyteller quale sei, perché lo fai con le immagini, con i video, ma di fatto racconti delle storie, quante volte ti è venuto in mente di raccontare le storie di chi ha fatto i corsi con te? Perché immagino, insomma... Lo fa. Di raccontare le storie dei miei discenti? Sì. Bella. Beh, è stata una bella domanda, perché c'è stata qualche discente, qualche partecipante che mi ha particolarmente colpito come personalità, come storia. Amo infatti quello che faccio, perché sto scoprendo una parte di me che non conoscevo, cioè l'insegnamento, è perché riesco in questo senso a incidere nella vita delle persone qualcosa, a lasciare un segno. E loro a loro volta nella tua... E appunto, stavo per dire proprio questo, la verità che poi alla fine loro pensano di imparare tanto da me, ma loro non hanno idea di quanto io stia ricevendo minuziosamente da ognuno di loro, nel loro modo di vedere, nelle loro prospettive. Poi i nostri corsi sono anche dei dialoghi, c'è tanta armonia, c'è in questo senso un interscambio, quindi il loro modo anche di interpretare quello che io magari sto raccontando, il loro nuovo punto di vista che magari non avevo considerato mi apre veramente un mondo, quindi è straordinario. Senti, Sefora, se ti dico la scuola che non c'è, se ti dico bevi perché bevano, tu che cosa mi rispondi? Ma potrei rifarti la stessa domanda a te, se ti dico la scuola che non c'è. Vabbè, chiamate. Ciao ragazzi, ciao, è stato bello. La scuola che non c'è, la scuola che non c'è, la scuola che non lo sa. Basta, non lo dico più. La scuola che non c'è è la scuola che c'è, nel senso che ho deciso letteralmente di chiamarla così, il progetto si chiamava la scuola che non, fra parentesi, c'è, e lo scopo di questo progetto era riuscire a togliere questo non, quindi la scuola che c'è. Infatti oggi c'è ed è esattamente un po' quello che Dio fa nella nostra vita, toglie questi non che noi affibbiamo a noi stessi a volte, come io non posso, io non riuscirò mai, io non riesco, e tutti questi non. E invece in realtà, in questo senso, ho cercato di emulare, di ripetere quello che poi Dio fa con noi, cioè togliere dalla nostra essenza un non, ed è quello che abbiamo fatto in Africa. Abbiamo costruito una scuola per più di 200 bambini, a Mungusi, uno dei villaggi più poveri, più sperduti della Tanzania, non è nemmeno rintracciabile su Google Maps, non esiste, non ci sono coordinate geopolitiche, anche se con la costruzione della scuola che non c'è, oggi il governo ha creato letteralmente un diritto postale, quindi c'è un P.O. Box, abbiamo chiamato letteralmente quindi all'effistenza un villaggio, abbiamo chiamato all'effistenza delle persone, che non erano iscritte all'anagrafe, ma adesso reclutandole nella scuola, adesso hanno finalmente una registrazione anagrafica, e quindi anche a un villaggio che ha un nome letteralmente, e geograficamente, geopoliticamente. Quindi in questo senso non c'è, la scuola che non c'è, ma in realtà abbiamo tolto questo non, abbiamo chiamato all'esistenza questo posto. Le avete dato il diritto di esistere praticamente, a livello anche forse riconoscibile, non l'intendo a livello etico, perché è chiaro che quello è esistere ognuno di noi. Assolutamente sì, è proprio dare un volto a chi non ce l'ha, dare un nome a chi non ce l'ha, mettere in questo senso, come diciamo all'inizio, una lente di ingrandimento su quello che non brilla, su quello che non luccica in questo mondo, su quello che non c'è, sembra che non ci sia, ma che c'è. Ci può fare in battaglia? Puoi viaggiare in questo momento per questo motivo? Oppure sei limitata, anche se il progetto lo segui tu? Mi sono dovuta fermare, ma abbiamo lì dei missionari locali, che supervisionano tutto, che lavorano per HPS. Io mi sono dovuta fermare per via del Covid, ma intendo partire a fine maggio, se Dio me lo permetterà, o magari qualche mese successivo, ma comunque dovremmo riandare a costruire un quarto pozzo, e quindi qui viene in gioco un po' la frase che diceva, l'altra seconda frase che diceva Marcello, bevi perché bevano, perché è il progetto delle nostre campagne sui pozzi d'acqua. Noi distribuiamo bottiglie, borracce, per bere affinché altri possano bere. Questo è il senso, per fare raccolta fondi. Bello. Senti, Sefora, l'ultima, diciamo, ci troviamo quasi in chiusura, e in quella famosa chiacchierata, voglio che tu possa donare anche questo passaggio. Tu hai detto, quella trivella che andava giù, che andava nelle profondità, in realtà, che dopo ha donato acqua, in realtà per me è significato anche altro, quello che vuoi regalarci, perché è stata una questione molto, molto potente quella che mi hai regalato, e vorrei che anche chi ci ascolta ne possa avere questo dono. Ok, io sono partita in Tanzania per la prima volta nel 2015 quando ho fondato l'organizzazione, ma l'ho fondata proprio alla luce di questo primo pozzo d'acqua che abbiamo costruito a Mtakugia, e siamo scesi sottoterra per 140 metri, abbiamo aspettato nove ore per arrivare a prendere dell'acqua e tirarla fuori con una pompa, e niente, penso che tu ti riferisca un po' a quello che racconto spesso, perché in realtà costruire questo pozzo, il primo in maniera particolare, è stato un modo per vedere che nel deserto della mia vita, come nel deserto di Mtakugia, in Tanzania, c'era acqua, malgrado sembrava impossibile che ci fosse. Io quel giorno dicevo proprio al Signore, dicevo a Dio, com'è possibile che qui sotto, in questo deserto, in questa eredità totale, ci possa essere dell'acqua. Probabilmente farò brutta figura quando scopriremo che non c'è nulla, la gente ha donato, avevo anche timore, perché non potevo assolutamente pensare e credere che veramente ci sarebbe stata dell'acqua che sgorgasse sotto il deserto. Eppure, dopo nove ore, dopo tanta stanchezza, ad un certo punto quest'acqua esce fuori, zampilla, esplode dalla terra come un vulcano, ma non c'era lava, c'era acqua, e lì ho sentito molto forte nel mio cuore che era la stessa cosa per me. Io ho vissuto diversi due anni di depressione maggiore e quel pozzo per me è stato un modo per il Signore per dirmi che, come io pensavo che non ci fosse nulla dentro di me, nella mia eredità più totale, Lui sarebbe stato così grande, così capace di far sgorgare fiumi, esattamente come dice Isaia, per chi conosce la Bibbia, nel deserto. E questa è la bellezza un po' della fede, quando noi pensiamo che non c'è niente, c'è eredità, c'è deserto, Lui punta esattamente in quel luogo, non nelle grandi città, non nei posti promettenti, ma quelli non promettenti, quelli dove nessuno punterebbe mai. Io non avrei mai puntato su di me, Lui l'ha fatto, così che abbiamo restituito speranza a migliaia di persone, poi di fatto con questi pozzi, con queste scuole, ed in conseguenza stiamo facendo con gli altri. Un po' in realtà, Marcello, ogni progetto umanitario a cui vado incontro, non è mera filantropia, ma dico sempre che è un modo semplicemente per conoscere di più Dio. Ogni volta che raggiungiamo posti inesistenti, penso che ci avviciniamo un po' al suo carattere, perché è un po' quello che Lui fa con noi, ci raggiunge dove nessuno ci avrebbe mai raggiunto, e punta sulle nostre zone remote, su tutte le parti più buie di noi, su quello che non siamo, sulla nostra miseria, rispetto a tutto il resto invece delle persone, che preferirebbero invece il meglio. Per Lui va bene anche il peggio. Grazie per questo racconto, che parla anche molto di spiritualità, diciamo che incontra tantissimo il punto di vista anche mio personale, che appartengo ad un'altra fede, ad un altro credo religioso, però ritrovo, sono buddista, quindi ritrovo comunque nelle tue parole quello che l'azione concreta verso la creazione di valore possa portare poi alle relazioni, alle relazioni con se stessi, alle relazioni con gli altri, al cambiamento di quello che c'è intorno, e della riscoperta di un grandissimo potenziale, di qualsiasi tipo esso sia, anche lì dove tu pensavi proprio non ci fosse più speranza di costruire. L'obiettivo del nostro programma è proprio raccontare delle storie così belle, così forti, quindi io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando a seguire i progetti di Sephora sul suo sito www.seforamotta.it.com Com international. Scusate, io chiedo, perché non voglio dire cose che le mie lezioni. Quindi .com e grazie mille di essere stata insieme a noi, vogliamo aggiornamenti sui progetti che realizzerai da ora in poi, perché possiamo anche noi partecipare e contribuire, perché so che si può anche donando magari, ne parleremo sicuramente ancora. Grazie di essere stati insieme a noi. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ciao, buona pubblicità e ci ritorniamo in pochi minuti.